Grande lavoro per i pompieri scaligeri nella notte appena trascorsa che sono intervenuti a Zevio in provincia di Verona in via dell'artigianato per un vasto incendio che ha coinvolto un'azienda che produce articoli tecnici industriali in gomma. Le fiamme sono divampate intorno all'1.30 e hanno coinvolto i due capannoni dell'azienda che si sviluppano per circa 1800 metri quadri. I pompieri partiti da Caldiero, Bardolino e Verona oltre ai volontari di Bovolone con sette mezzi e 19 uomini hanno lavorato tutta la notte per domare le fiamme che avvolgevano due capannoni, collassati entrambi i tetti. L'intervento immediato ha scongiurato che il fuoco si propagasse ad un'abitazione confinante con l'azienda. Solo alle prime luci dell'alba l'incendio è stato circoscritto e domato. Sul posto, oltre ai carabinieri, anche personale Arpav per il monitoraggio dell'aria e il sindaco di Zevio. L'intervento è proseguito anche stamane per spegnere i piccoli focolai ancora presenti e mettere in sicurezza i due capannoni che a causa dell'incendio hanno subito ingenti danni strutturali. Le indagini per accertare le cause sono al baglio del personale dei vigili del fuoco.